Continua la rincorsa del Corato sul Molfetta. I ragazzi di Mr. Pizzulli archiviano agilmente la pratica a Fortis Altamura con il punteggio secco di 0-3, partita senza storia. Nel primo tempo Di Rito si libera bene da una marcatura, si invola verso Sante, conclusione respinta dal portiere Altamurano che poi si supera. Sulla botta si cura ripetiti, deviazione in angolo, la Fortis lascia ampi spazio al Corato, al 29esimo Turai viene servito in una prateria, entra in aria, tocco con la punta e sfera che scivola lentamente in rete. E vantaggio De Nero Verdi al Tonino D'Angelo, i padroni di casa accusano il colpo e dopo pochi minuti al 33esimo Leonetti è tutto solo in aria e libero di depositare in rete la palla del raddoppio ed è 0-2. L'Altamura prova a scuotersi creando i presupposti per la rete, come in questa azione insistita che si chiude con la conclusione debole di Cannito. Nessun problema per Adario, il primo tempo va in archivio sullo 0-2 per il Corato. Nella ripresa la Fortis Altamura prova ad accorciare ma con poca sostanza, il Corato sfiora il tris con il colpo di testa di Santoro, Sante si rifugia bene in angolo. Poi nel finale al 41esimo Godirin va via tutto solo, scarta il portiere e deposita la palla in rete per il definitivo 0-3. Triplice fischio e vittoria per il Corato che resta due punti dalla capolista Molfetta. Per la Fortis ora la classifica si complica, solo un punto nelle ultime tre gare.